Intanto non dobbiamo farci prendere dall'ansia di voler fare le cose frettolosamente, qualcosa viene fatto in anticipo, credo che il lavoro soprattutto di Piero Osiglio e di Bacin sia un lavoro assolutamente molto positivo, ci deve essere grande professionalità, competenza ma anche creatività e non sempre c'è la necessità di avere soldi e fare investimenti, bisogna avere anche il coraggio di fare delle azioni, ma soprattutto devo dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e quindi con questa premessa credo che potremo affrontare la stagione con due obiettivi di sempre, con tre o quattro competizioni da dover affrontare sapendo che siamo l'Inter e come tale i traguardi sono sicuramente ambiziosi. Direttore, ci si aspettava un addio diverso con Perisic, abbiamo letto di un po' di fastidio, vi aspettavate qualcosa di diverso? No, più che altro il dispiacere, però capiamo anche la scelta del giocatore che ha giocato in Italia, in Bundesliga, ha voluto anche provare l'esperienza in Premier League e quindi quando si ha una certa età è giusto che il singolo calciatore decida il proprio destino, noi non potevamo fare offerte migliorative rispetto a quelle che abbiamo fatto, ma soprattutto al di là dell'aspetto meramente economico credo che la scelta, come ho detto, si sia basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale, per cui massimo rispetto per l'atleta, grande ringraziamento, ma non abbiamo paura e sicuramente troveremo il giusto sostituto, avendo già in casa un elemento come Gosens che gode della nostra stima, della nostra fiducia e che sicuramente non farà ripiangere. Grazie. Bene? Congratularsi con Berlusconi e Gagliani per la Bria Monza. Bene. Sono molto contento che il Monza sia finalmente non tornato, ma arrivato in Serie A, il paradiso che compete. Io sono stato direttore del Monza, quindi so qual è l'amore della Brianza, so qual è lo sforzo anche fatto da Gagliani e Berlusconi, quindi sicuramente è un grande ringraziamento che bisogna fare a questi due grandi dirigenti. La speranza è che veramente il Monza possa avere un ruolo importante nello scenario della Serie A. Ci vuole tanto tempo a raccontarmi, ma fu una trattiva anche difficile con il suo presidente Zamparini, perché c'era di mezzo il Milan di Berlusconi, c'era di mezzo l'Inter di Toil e quindi io, ecco, utilizzando quello che ritengo sia una caratteristica di un manager come di tutti, il coraggio, il coraggio di dire all'Andrea Agnelli per battere il Milan e l'Inter dobbiamo spendere di più, perché se poi il giocatore è bravo sicuramente il prezzo sarà giusto, se è scarso, a dare un milione o più un milione, a meno non cambia nulla. E quindi lì ci siamo, mi ricordo che Zamparini mi telefonò, dicendo guarda che mi ha chiamato Berlusconi stamattina, vieni qua, lui si aveva sul quartiere generale vicino a Gallarate e Malpense, io vengo da Torino, quindi sono arrivato immediatamente e abbiamo concluso questa operazione, che sicuramente non mi ha fatto dormire la notte, però sia i consigli di Andrea, sia il fatto che comunque Di Bala stava già a Palermo dimostrando il suo valore, ne hanno fatto sì che sia diventata un'operazione assolutamente vantaggiosa per noi all'evento.